dominio dell'aria e siamo arrivati all'ultimo video quello in cui parlo del dominio probabilmente più sottovalutato di tutti il dominio dell'aria dico che è più sottovalutato perché i dominatori dell'aria sono dei pacifisti e quindi utilizzano sempre il loro dominio o per gioco o per difesa e reazione mai per attaccare difficilmente attaccano in modo violento con l'intento di fare del male la loro tecnica è ispirata al bagua zang uno stile dai movimenti molto leggeri e rapidi beh se il dominio dell'acqua è legato all'inverno il fuoco all'estate e la terra alla primavera 2 più 2 fa 4 quindi il dominio dell'aria è legato all'autunno una particolarità che si differenzia dagli altri tre paesi è che tutti i nomadi dell'aria sono dei dominatori l'aria è l'elemento della libertà e questo dominio è legato alla serenità data la grande spiritualità che lega i dominatori di questo elemento i primi dominatori dell'aria furono i bisonti volanti così i nomadi dopo aver ricevuto il potere del dominio dalla solita tartaruga leone osservarono questi possenti animali così da imparare a dominare l'aria un'altra particolarità è che chi ha questo dominio è in costante contatto col proprio elemento ed è l'unico a non poter essere limitato in alcun modo nel luogo in cui si trova a meno che non ti trovi nello spazio certo i dominatori dell'aria possono utilizzare le loro capacità in moltissimi modi differenti di base nel combattimento sfruttano la loro grande agilità e velocità che possono aumentarle ulteriormente grazie al loro dominio come i dominatori dell'acqua anche loro possono manipolare le nuvole creano monopattini o ruote d'aria per giocare e divertirsi possono creare dei cuscini d'aria per attutire le cadute generano turbini di varie dimensioni getti d'aria, barriere, onde d'urto e lame di vento le tecniche di attacco sono tutte utilizzate al minimo indispensabile della forza hanno una grande capacità polmonare tanto da poter soffiar via persone in mali cose e tutto quanto e meno male che sono dei pacifisti perché parlando di capacità polmonare loro sono in grado di succhiare via l'aria dai polmoni dell'avversario è una tecnica molto lenta e difficile da utilizzare durante un combattimento ma ovviamente i nomadi dell'aria non la utilizzano tipo mai perché non vogliono uccidere nessuno tra le varie abilità c'è anche il risucchio per poter afferrare gli oggetti distanti una cosa tipo telecinesi grazie a determinate tecniche di respirazione pure loro sono in grado di termoregolare la temperatura del proprio corpo grazie al loro elemento sono in grado di percepire le variazioni dell'aria e quindi capire quando qualcuno li sta attaccando tipo alle spalle e i più abili hanno una connessione wifi della madonna perché possono connettersi col mondo degli spiriti e proiettare la propria forma astrale i dominatori dell'aria utilizzavano dei bastoni in grado di tramutarsi in alianti utilizzati per volare controllando le correnti d'aria con l'evolversi della tecnologia questi bastoni sono stati sostituiti dalle wingsuit tuttavia ai più abili questi oggetti sono soltanto dei giocattoli poiché riescono a controllare l'aria in modo da poterle evitare infine il più totogalattico di tutti quello che ha raggiunto l'illuminazione distaccandosi da ogni desiderio materiale e terreno acquisisce la capacità di volare non levitare volare perché il suo spirito è diventato leggero come l'aria stessa finito trovo che gli autori abbiano fatto un lavoro di ricerca e studio impressionante per quanto riguarda le arti marziali e anche le usanze dei vari paesi per crearne nel modo più specifico possibile allora che ne pensi qual è il tuo stile o dominio preferito qual è quello che ti ha impressionato di più qual è quello che ti ha incuriosito conoscevi già questo cartone? dimmi tutto quello che ti pare a proposito di questi video vorrei avere più feedback possibile per poter migliorare in ogni caso io consiglio di guardare questa serie a chiunque perché è bellissima comunque dai basta sto parlando troppo ci vediamo alla prossima ciao Grazie a tutti.